Oggi avrebbe dovuto essere un episodio un po' diverso, perché era mia intenzione uscire e registrare questo di cui ti parlo adesso all'aperto, in mezzo al vento, sotto il sole, perché avevo proprio bisogno di sole. Però non l'ho fatto. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, podcast dedicato all'arte dei giardini, allo stare nei giardini, al godersi i giardini. E io ho cominciato questa giornata, anzi è da ieri che lo sto sfogliando, sto sfogliando questo libro, che è un libro che si chiama Bird Garden, il giardino naturale e i suoi ospiti, edito da Mattioli, 1885, scritto da Angela Zaffignani. È una riedizione di un volume degli anni 90, di cui lascerò il link nella descrizione, ma che purtroppo, a quanto pare, è fuori catalogo e quindi forse è difficile da trovare. Però è un libro molto bello, che ho comprato nel 2010, lo trovo nel 2011, c'è scritto qui, anzi no, l'ha comprato mio padre nel 2011, trovo qui la scritta all'inizio del libro. Ed è un libro stupendo, è un libro bello perché intanto ti mette di fronte al fatto che se tu parli di rapporto di giardino naturale, di un certo modo di intendere il giardino, negli anni 90, 30 anni fa, nel 92, 28 anni fa, o adesso, 10 anni fa, alla fine non è che sia cambiato molto. C'è forse un po' più di glamour, c'è forse un po' più di fashion, però, quando parliamo del rapporto degli italiani con la natura, ci siamo sempre sentiti obbligati a specificare che gli italiani la natura non la vogliono. Non la vogliono perché è difficile, perché è dura, perché devi combattere contro questa natura che è aggressiva, aspra, con le spine, velenosa. Insomma, è una cosa che si va sempre a sottolineare. E invece come non ci sia un equivalente italiano per dire bird garden perché è inglese. Gli inglesi invece la natura la vogliono, la amano e tutte queste cose. Anche se questa utopia inglese di ogni casa con un giardino, questi paesaggi meravigliosi, può essere ingannevole. E anzi, sto pensando proprio che magari domani parlerò di questa cosa, di questa illusione che basti il giardino per risolvere i problemi. Basti che le cose siano belle, basti un albero. In realtà di questo ne abbiamo già parlato, però andiamo proprio a partire dall'Inghilterra, magari. Vediamo. E comunque, questo libro è molto bello e ci sono tanti consigli, tanti bei racconti, un bel modo di raccontare questa possibilità di realizzare dei giardini che attirino uccelli, farfalle, pipistrelli, animali. E ti spiega anche il motivo per cui fare una cosa del genere e anche come farlo su un terrazzo, su un balcone. Parla di Balconi a Milano, quindi insomma, utopico, quasi utopico. E in più i disegni bellissimi di Gabriele Pozzi, che sono quei bei disegni dei libri di una volta. Ecco, adesso faccio il romantico. Beh, insomma, da ieri che sto leggendo questo libro volevo uscire, avevo bisogno di sole, sentire il sole sulla testa. E quindi ho detto, quale modo migliore per registrare il podcast se non farlo all'aperto? Ogni tanto l'ho fatto. Quindi mi sono armato di telefono, microfono, sono uscito, ho cominciato a registrare e non mi convinceva perché stavo pensando a mille altre cose. Pensavo a mille altre cose e quindi non riuscivo a convincermi. E dicevo cose sconnesse, senza senso, insomma, sentivo di registrare una cosa che poi non ti avrebbe lasciato nulla. Non ti avrebbe nemmeno dato lo spazio di ragionare. Magari sì, perché sicuramente sai trovare un senso nelle cose anche più astruse. Però, insomma, non mi pareva di farti giustizia registrando una puntata che non mi piaceva, che non mi diceva nulla. Quindi, alla fine, sono rientrato, mi sono dedicato a un'altra cosa. Sto preparando un webinar insieme al geologo, vulcanologo Guido Giordano dell'Università Roma 3 domani sull'abbassamento del livello del lago Albano e del lago di Nemi in provincia di Roma, sul rischio paesaggistico, il rischio geologico. Quindi sai quando ti lasci prendere da queste cose? E niente, alla fine siamo arrivati a stasera e credo sia la prima volta da quando esiste questo podcast che pubblico così tardi. No, forse una volta in Inghilterra l'ho pubblicato verso le otto di sera, non lo so. Comunque, insomma, è nata questa giornata all'insegna di un podcast che voleva essere libero, ma poi per essere libero mi sono trovato senza, senza, come si dice, senza una linea da seguire, senza un qualcosa che valesse la pena dirlo, dire perché mi sembrava di dirlo in maniera sciatta, in maniera disordinata. E ecco, questa impressione, secondo me, è quella che ci portiamo dietro per questo famoso rapporto degli italiani con la natura. È quello che ci portiamo dietro quando si tratta di avere a che fare con le piante, è quello che ci troviamo dietro quando magari vogliamo ingaggiare questa lotta teorica con un giardino fatto in un certo modo e sentiamo di non avere gli strumenti per farlo. E allora magari smettiamo, cessiamo l'attività che abbiamo iniziato e diciamo, vabbè, la lascio, la rimando a un altro giorno perché non ne so davvero nulla e piuttosto che fare male una cosa non la facciamo. Piuttosto che fare un giardino disordinato e che non è fatto bene, che può essere gestito male, che può essere, come dire, troppo difficile da gestire, non lo faccio. Piuttosto che fare un giardino che non sia abbastanza naturale, che non rispecchi i miei desideri, allora non lo faccio. L'abbiamo sperimentato anche nell'evento che abbiamo fatto la settimana scorsa, in undici, in dieci, per realizzare un giardino da tavolo in sette giorni. In questo evento ci siamo scambiati opinioni, abbiamo parlato e ci siamo detti tante cose che riguardavano una singola pianta, oppure come trattare il terreno, ma io ho paura di fare questo, io ho paura di fare quest'altro, quando invece la cosa importante in questo caso era creare questo giardino e anche abbracciare i propri sbagli. Per esempio, adesso continueremo a parlare di come le piante potrebbero non reggere bene all'impianto e quindi andiamo a vedere come andare a pulire, come andare a comportarci se una pianta marcisce, se le piante non fanno quello che speravo facessero. Credo sia un po' il senso di un giardino naturale. Magari io faccio un giardino che è pieno di fiori ma non attira le farfalle, che è pieno di fronde ma non attira uccelli, che è pieno di zanzare ma non attira i pipistrelli e quindi io mi sento di aver sbagliato. Eppure nel momento in cui io mi trovo in una situazione del genere posso sempre provare a fare un punto, posso provare a stilare la lista di quello che ho, posso provare a disegnare il mio giardino, posso provare a stare lì e ad ascoltare, a sentire il vento, a sentire il sole sulla testa, a sentire le zanzare che mi pungono anche se ora è novembre quindi fortunatamente almeno spero non pungono più e fare un respiro e ricominciare. È un po' l'idea del giardino, è un po' l'idea, lo diciamo spesso, del giardino digitale che stiamo costruendo. Noi impariamo a fare i giardini in questo modo, impariamo a creare una mentalità paesaggistica, impariamo a sviluppare un modo di vedere le cose che è proprio di una persona che con la natura sa di non poter vincere, ma sa anche di poterci collaborare e sa che tutto quello che non sa, pian piano, forse, non tutto, ma molte cose, le può imparare. E, come dire, tegumento su tegumento, mattoncino su mattoncino, quel giardino che corrisponde a un'immagine mentale che abbiamo noi, delle cose che vogliamo fare, lo costruiremo. Insomma, per concludere, io stamattina ero uscito con l'intenzione di realizzare un podcast che mi facesse sentire liberissimo, ma poi in realtà a quella libertà che io stavo sperimentando non ha corrisposto un effettivo valore. Bene, questa è la dura realtà dei progetti, questa è la bella realtà dei progetti, cioè tutto quello che noi costruiamo nella nostra testa deve avere anche delle radici nel terreno e a volte, piuttosto che mettersi lì e straparlare, voler strafare, vale la pena uscire, sentire il sole sulla testa e basta. Nient'altro. Aspetti un attimo e poi ti ci rimetti. E questa è l'osservazione che mi è venuta da fare su questa esperienza mia in cui appunto oggi volevo parlare di questo libro e mi rendo conto che non riesco a non pensare a questo e cioè che dobbiamo lasciare un po' correre. E lo dico soprattutto nel caso in cui tu che mi stai ascoltando sia un progettista, un architetto, un paesaggista, un agronomo, una persona, un geometra, una persona che ha una mentalità progettuale lascia correre ogni tanto. Non devi controllare tutto. Non dobbiamo controllare tutto. Non siamo macchine, siamo persone. Fammi sapere che ne pensi. Lasciami un commento. E se ti piace questo podcast iscriviti e condividilo con le persone che ami di più al mondo. E se non ti piace condividilo con le persone che odi di più al mondo. Magari a loro piace invece perché se te fa schifo loro invece avranno sicuramente un cattivo gusto o un buon gusto a seconda dei casi e vorranno ascoltare Giardino Rivelato. E se vogliono possono anche parlare con me. Possiamo rimanere in contatto su giardinorivelato.it oppure potete scrivermi su Telegram tu e il tuo amico o il tuo nemico. E basta. A questo punto io ti ringrazio di essere stato qui con me e di aver chiacchierato, di avermi ascoltato con la scusa del giardino.